Armato con una pistola ha rapinato la sala bingo e poi fuggito in bicicletta. È accaduto sabato sera intorno alle 21 sulla passeggiata di Lido di Camaiore. Da quanto emerso il malvivente sarebbe riuscito a portare via circa 150 euro. Il rapinatore, che era a volto scoperto, è entrato nella sala come fosse un normale cliente, ma una volta arrivato al bancone ha minacciato con una pistola il cassiere, intimandolo di consegnargli l'incasso. Sono stati momenti di grande tensione, dato che a quell'ora la sala era molto affollata. Il cassiere ha mantenuto il sangue freddo e ha consegnato all'uomo, un italiano sulla quarantina, circa 150 euro. Afferrato il denaro, il rapinatore è uscito dal bingo e, inforcata la bicicletta con cui era arrivato, si è dato alla fuga. Appena fuori è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sentendo le numerose testimonianze degli avventori e del dipendente del bingo per risalire all'identità del rapinatore ciclista.